Musica Allora, oggi credo che per Bianchi è una giornata importante. 200 anni dalla Fondazione del Comune è sicuramente una giornata importante per il Comune, ma è una giornata che ci fa riflettere su tante cose. Anche riflettere sui comuni come può essere quello di Bianchi. Io ci vengo volentieri perché sono grande amico del Sindaco e ho tanti amici, perché sono stato amministratore della comunità montana del Savuto e con Bianchi ci sono rapporti strettissimi. Quando tu vieni in questi piccoli comuni, una prima riflessione è quella del dramma dello spopolamento dei comuni. Queste manifestazioni, il fatto di stare insieme e creare infrastrutture, aiutano a rallentare lo spopolamento dei comuni e delle aree interne. È un fenomeno sicuramente tragico sotto certi punti di vista, perché si perdono tradizioni, si perdono le potenzialità di un territorio e si perde anche la difesa del territorio stesso. Quindi la giornata di oggi, oltre alla festa, deve servire a riflettere su questi fenomeni, che sono fenomeni, secondo me, che a volte affrontiamo, non con la dovuta correttezza, ma con la dovuta attenzione. Grazie a tutti!